Parliamo di rugby, la Barton Cus Perugia pareggia contro il Piacenza nella partita a Pian di Massiano, valida per la seconda giornata di ritorno della fase di retrocessione del campionato nazionale di rugby maschile di Serie A. La Barton Cus Perugia pareggia contro il Piacenza nella partita a Casalinga, valida per la seconda giornata di ritorno della fase di retrocessione del campionato nazionale di rugby maschile di Serie A. Due punti conquistati che permettono ai Biancorossi, complice la sconfitta di Firenze a Genova, di restare in zona salvezza. Quella disputata a Pian di Massiano è stata una partita molto combattuta, ultimo in classifica il Piacenza, arrivato a Perugia molto determinato e combattivo. Il primo tempo chiuso per 3 a 12 ha visto gli ospiti scendere in campo con la voglia di conquistare punti, mentre il 15 di Luca Martin ha avuto qualche problema a gestire l'incontro. Diverso è stato il secondo parziale con la Barton più concentrata che ha contenuto l'attacco del Piacenza e con del Pinto che ha centrato tra i pali tre calci 12 a 12. Due punti propositivi, ha commentato Roberto Cirimbilli, direttore sportivo del rugby Perugia nel post partita, che ci permettono di restare in zona salvezza. Un risultato ancora più importante se si considera che Perugia era sceso in campo con diversi problemi, Palazzetti assente, Pretorius e Vito non in forma. Per come si era messa la partita, ha aggiunto il presidente Fioroni, è andata bene. Come da aspettative Piacenza è stata una squadra dura che ha giocato per riportare a casa il risultato. Domenica prossima a Perugia arriverà la capolista Capitolina, reduce dalla vittoria nello scontro diretto contro Torino, chiuso con il punteggio di 46 a 20. La Barton ce la dovrà mettere tutta per cercare di conquistare altri punti. Schiacciante vittoria invece quella dell'Agrifo, calcio femminile che batte con un rotondo 4 a 0 le ragazze del team Ferrara. La Grifo Perugia torna al successo casalingo battendo con uno schiacciante 4 a 0 la New Team Ferrara e resta così in corsa per agguantare quantomeno il terzo posto in classifica. Una vittoria arrivata al termine di una gara ben giocata dalle Biancorosse con il capitano Natalizi protagonista con una doppietta e una prestazione maiuscola. Per l'occasione Belia si affida al 4-3-3 e rivoluziona l'attacco inserendo tutte insieme le ex Primavera, Ceccarelli a destra, Franciosa al centro e Narcisi a sinistra. Turno di riposo per il bomber Giulia Fiorucci e reparto orfano dell'Azzurrina Gloria Marinelli impegnata con la nazionale Under 17 a Montepulciano per le qualificazioni ai prossimi europei di categoria. A centrocampo spazio al consueto trio Natalizi, Fiorucci, Corinna e Brozzetti. Conferme anche in difesa con il quartetto composto da monetini e ferretti sugli esterni e dalla coppia centrale Saravalle e Bordellini. Nel primo tempo la Grifo preme il piede sull'acceleratore e costringe Ferrara sulla difensiva. Al tredicesimo l'estremo difensore Emiliano sbaglia il rinvio ma il tiro di Narcisi non inquadra la porta. Sette minuti più tardi la numero 10 Biancorossa innesca Brozzetti che viene anticipata dal portiere. Al ventiquattresimo Franciosa coglie una clamorosa traversa e una manciata di minuti dopo Ceccarelli da buona postazione spara alto. Un forcing che viene premiato al trentacinquesimo quando Natalizi si invola sulla sinistra e confeziona un assist al bacio per Franciosa 1-0. Nel finale di frazione altre due occasioni per le Biancorosse ma Saravalle scheggia la traversa al trentottesimo e Ceccarelli calcia sull'esterno della rete al quarantunesimo. In avvio di ripresa le ospiti hanno un moto d'orgoglio che dura giusto il tempo di consentire alla Grifo di riprendere le distanze e tornare a macinare gioco. La squadra di Valentina Belia centra il raddoppio al quindicesimo con un bel sinistro di Natalizi su assist della neoentrata a Scimoto. Neanche il tempo di rimettere il pallone al centro che arriva il tris. Ceccarelli smarca Brozzetti che dal limite beffa De Candia con un preciso pallonetto. Al venticinquesimo ancora protagonista il sinistro di Capitan Natalizi che su punizione cale il poker e mette in ghiaccio la vittoria. Negli ultimi minuti di gara c'è gloria anche per Monsignori che sventa una pericolosa occasione avversaria orchestrata da Goldoni mentre Saravalle e Franciosa sfiorano addirittura il 5-0. Sicuramente questa è stata una partita in cui abbiamo giocato molto bene, il risultato è stato ottimo ma oggi soprattutto è stato il gioco di squadra che ha fatto la differenza. Finalmente un gol a parte abbiamo giocato bene, quando giochiamo insieme per la squadra i risultati poi arrivano. Dobbiamo contenere questa linea anche se il campionato è finito, per il prossimo anno comunque questa è la strada da seguire. Volley femminile di serie B2, la Floreale Perugia e la squadra del Monte Varchi hanno concluso l'incontro sul 2-3. Ancora un brutto scivolone per la Palavolo Perugia che non riesce a risollevarsi e si riavvicina pericolosamente alla zona rossa della classifica. Dopo l'inaspettata sconfitta prepasquale contro Marciano, la Floreale è caduta anche tra le mura amiche sotto i colpi del Valdarno. Una vera e propria battaglia sportiva quella che è andata in scena al Capitini, che ha visto prevalere le Toscane solo al quinto set. Tie break ancora fatale per le Biancorosse, incapaci di gestire il vantaggio sul 2-1 e di chiudere la contesa nel quarto parziale. Il primo set ha dato delle chiare indicazioni sull'andamento della partita. Squadre a giocarsi punto su punto e potere all'equilibrio. Non è un caso se il parziale sia concluso oltre il 25esimo punto, con Rossit che ha spinto avanti la Floreale mettendo a segno gli ultimi decisivi due, 26-24. Nel secondo parziale Monte Varchi si è portata avanti 5-0, ma poi ha subito la rimonta biancorossa che ha riaperto nuovamente i giochi, fino alla vittoria toscana, centrata sul 26-28. Nel terzo set la Floreale ha dato la sensazione di poter prendere il largo, sempre in vantaggio alle pause tecniche, Sfascia e compagnie hanno chiuso la pratica con un confortante 25-18. L'inizio del quarto parziale ha ridato spazio all'equilibrio, ma nella fase conclusiva le Toscane hanno messo a segno 5 punti di fila e guadagnato il pareggio, 18-25. L'arbitro ci ha messo del suo, un rosso a Rossit è costato un punto proprio nella fase calda. E nel tie-break il cestetto di Braghiroli ci ha provato fino all'ultima palla, ma i due punti decisivi li ha messi a segno Monte Varchi, 15-17, conquistando anche quelli più importanti della posta in palio. Ed è tutto per questa edizione di Tuff Channel News, grazie per averci seguito e arrivederci alle prossime edizioni. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.